Ciao a tutti amici, oggi vi farò vedere il mio nuovo giocattolo Wow, bellissimo, apriamolo Che cos'è Gioia? Sono degli anelli da creare Con questi Con i glitter Così si devono aprire Poi guarda che c'è Gioia C'è questo, qua dobbiamo creare la scatolina Che poi faremo Le istruzioni Per creare la scatolina Vabbè, a noi ci interessa creare gli anelli, vero? Vai, apriamoli Sono curiosa di metterli Wow, se le scegli scommetti il rosa Quanti ce ne sono? Tantissimi Io preferisco il rosa, ma quella rosa te lo voglio regalarti Ah, grazie Ma sono così? No, si toglie Ecco qua Quale vuoi? Questo qua vogliamo fare? Per prima questo Questo qui Cosa ci vuoi mettere sopra? Questo qua? Eh, sì Sì, questo qua Lo sai mettere da sola? Sì Dopo lo fai vedere Bravissima Fammi vedere Wow Fallo vedere Dai Ora scegli glitter Questi Questi Intorno Mettere due di qua e due di là Secondo me io preferisco il rosa Sempre il rosa Ma ti piace tanto questo rosa? Perché? Vediamo Bellissimo E mettere un altro di là Sempre il rosa? Sì Anticolorato Eh, mettiamolo pure colorato E questo è il mio Me lo regali a me? Invece questi glitter Li usiamo per fare la scatolina Perché Quello Ci vuole la colla Di qua Vediamo? Ti aiuto? Vieni qua È troppo piccolo Eh sì Wow Un scelto quello viola Ecco Eccola Nellucca Ha creato gioia Non lo voglio provare Tieni Provalo Questo qua è il mio E quello là Blu Wow Fallo vedere Oh Che bello Ne creiamo un altro Quello blu Per te Quello rosa Ok Io voglio Questo Vediamo Un po' C'è di tanto Questo Questo qui Ok Questo è il giro Te lo creo io Sì Mi piace questa però Metti questa Sì Ti puoi mettere Tutto quello che volete Messo bene? Benissimo Eh però A me mi devi mettere Noi glitter rosa Mettimi questi rossi Ok Ti piacciono? Sì Riesci a farlo? Facile vero? È solo difficile mettere Vediamo se ci riesce Io dico che non ci riesce Eh Un po' che a centro Qua? Eh Che cosa vuoi? Di nuovo rosso? Eh sì Dai Metti i due rossi Ma che fa questa? Ma che mi sta facendo? Eh Eh Stai facendo un po' che si è Vediamo Insieme Ecco questo è quello che ha creato per me gioia Molto bello Ma li vediamo da vicino Ce lo metto Vediamo se mi va Eh Non mi va Mi è sì Qua dai Eccolo qua Oddio Vediamoli insieme Ne è andato Vediamoli insieme Mettiamoli qua Facciamoli vedere Ecco i nostri anelli Ok Saluta Dai Noi continuiamo a creare anelli Ci vediamo Nel prossimo video Ciao